stiamo lavorando questo bellissimo tavolone di castagno francese diventerà il top di un mobile di un bagno e spessore 65 mm una bella bestia adesso mi sono già pulito una costa con il binario e la sega d'affondamento tra l'altro ho montato una lama di glen quelle di nuova generazione quelle sottili e 24 denti che è proprio la lama perfetta per fare questo tipo di lavori ora devo spaccare di nuovo a metà questa tavola e poi dividerla di nuovo per tutta la lunghezza perché vi faccio vedere che quando l'ho comprata purtroppo non avendo grandissima scelta di questo spessore ho dovuto prendere un pochino quello che ho trovato e purtroppo c'è una spaccatura che parte dall'inizio ed arriva fino alla fine quindi con il binario seguiremo questa spaccatura e andremo a dividere di nuovo la tavola per poi giuntarla